28 marzo 2009, i confratelli sono nel recinto della chiesetta campesa di San Ciriaco per il taglio delle palme che poi verranno utilizzate per confezionare e tessere le palme per il prossimo 5 di aprile ho cambiato la macchina ma come ti vedevi? Dovete i daici? no, questo è di albino